Nato come impianto unitario fra il 1799 e il 1805, il settore floristico costiero e pedemontano della contrada dell'Acqua Santa, a nord di Palermo, è formato dal residuo parco paesistico di Villa Belmonte e dal giardino del Grand Hotel Villa Igea. Quest'ultimo, realizzato fra il 1899 e il 1903 dall'architetto Ernesto Basile, insiste su quella fascia di terreno in lieve pendenza prossima alla scogliera che originariamente era compresa nella tenuta di Giuseppe Ventimiglia, principe di Belmonte. Sulla scogliera, quindi, campeggia ancora oggi una sistemazione rovinista, inglobata nel complesso di Villa Igea. L'impianto del giardino panoramico, in pendenza e con aiuole prative a contorni mistiline ritagliati da un sistema di viali sinuosi, presenta collezioni esotiche, boschetti di pini, esemplari isolati di figus e termina con sistemazioni dell'accidentata scogliera a terrazze e piazzuole collegate da scalinate rampe. In asse con l'ala sud-ovest dell'articolato complesso, nato come sanatorio di lusso per iniziativa di Ignazio e Franca Florio, con arredi eseguiti da Vittorio Ducro e pitture di Ettore De Maria Bergler, Corteggiani e Luigi Giovanni, una sequenza scenografica di rampe a tenaglia e di tavolieri con fontana introduce una riosa nota all'italiana in un lussureggiante impianto tardo-romantico dal composito assetto all'inglese. Grazie. Grazie.